Ciao a tutti ragazzi, questo è un nuovo episodio di Warframe e quest'oggi sono qui per mostrarvi come ottenere Caliban la sua arma distintiva, la Venator e le tre armi degli Harkon prima di tutto ragazzi, prima di riguardare questo video mi raccomando, giocate la quest New War perché il modo per ottenere 4 di questi elementi nonché per poter ricraftare richiederà appunto missioni che si sbloccheranno soltanto una volta aver completato questa taglia cioè questa quest, scusate bene, comincia subito con l'arma più facile da ottenere ovvero la Venator potrà essere tranquillamente ottenuta cioè copiando dal vostro laboratorio Tenno al Dojo se non sapete come arrivarci, come vedete nel video premete il tasto ESC, viaggio rapido e vi ritroverete, cioè andate sul laboratorio Tenno e vi ritroverete subito nel vostro laboratorio Tenno una volta appunto l'avete sbloccato con le ricerche noterete che vi verranno richiesti alcuni materiali che non avete ancora mai incontrato ovvero i frammenti Nammer cosa di simile insomma ora non mi viene il nome preciso è stato fatto ragazzi che questi frammenti appunto potranno essere ottenuti unicamente dalle taglie che si sbloccheranno una volta aver completato New War per quanto invece riguarda forse il secondo elemento che alcuni di voi non sanno come si ottiene ovvero i frammenti Anomania sono molto semplici a ottenere dovrete infatti dirigervi nel Veil in una qualsiasi missione Grineer comparirà una specie di pallino rosso un segnalino rosso insomma attenzione qui dovrà essere fatta per forza in missioni normali se la farete nel Void la nave in questione non spawnerà una volta infatti fatto ciò oltre a trovare la classica missione di eliminazione dei caccia e dei trasporto ci sarà una missione gialla un obiettivo prioritario e un'altra missione segnalata come anomalia una volta che avrete indagato così vi sarete avvicinati quello che dovete fare sarà semplicemente eliminare tutti i sentient che vi verranno selezionati cioè vi verrà detto ovvero 20 sentient alla fine tra l'altro ci sarà anche un cristallo rosso che se rotto dovrebbe in teoria avere la possibilità di lasciare un pezzo della shadow non è che ci spererebbe troppo però insomma se mai dovete farvela è buono sapersi inoltre ragazzi questa missione potrà essere effettuata da qualunque altro giocatore che è nella vostra stessa partita quindi potete tranquillamente smizzarvi i compiti si dividevi i compiti e comunque entrambi riceverete il frammento la maia altra cosa importante se avrete un boost di quantità e risorse prenderò però 2 a posto di 1 beh detto ciò ragazzi sapete solo che vi serviranno un totale di 9 di questi frammenti per poter ottenere il vostro warframe mentre 5 solo per l'arma mentre per conto riguarda i pezzi di Kaiban e delle 3 armi Argon questi ultimi saranno ottenibili con le taglie presenti su Cetus e su Fortuna i giri di queste taglie ti provi meglio dire cambiano ogni 2 ore e io vi consiglio di tenere sempre d'occhio quello là di Cetus perchè sarà quella lì che cambierà realmente cioè ci sarà prima Cetus e dopo la taglia verrà ripresa da Fortuna le taglie come ho detto cambieranno ogni 2 ore ognuna di quest'ultima contenerà un pezzo di Kaliban e un'arma sono sempre le stesse non cambieranno per quanto a volte mi è capitato che 2 tagli uguali comparissero subito o dopo come ho detto ci sarà anche su Fortuna date per scontato che le taglie potranno essere solo giocate al giorno di giorno su Cetus mentre quando sarà notte su Cetus potrete giocare su Fortuna dico così perchè in teoria il cambio di calore giorno è un po' confuso su Fortuna visto che da quello che ho potuto vedere che a volte sia caldo che freddo le taglie comparivano lo stesso non ho capito perchè ma ok detto ciò ragazzi ora vi farò vedere dei mini spezzoni sulle varie armi degli Archon che sono molto interessanti visto che hanno un effetto diciamo così combo secondario quindi ciao a tutti alla prossima ok ragazzi eccoci qui sono qui per puntualizzare tra molte virgolette una piccola cosa ovvero che il Tenno cioè che il Driften è buggato oltre il fatto che i residui d'arma che non si rinnovano più potranno essere scambiati isotopi d'ammer potranno essere scambiati dai Quill come da Little Duck per punti di reputazione il che non è male specialmente dai Quill perchè il più diciamo così grande ti da solo 1500 mentre questi qui ti danno 2000 e in più sono molto più veloci e facili da farmare quindi insomma vedete voi inoltre altre cose che vi sono indicato di dirvi è che le varie quest scusate le varie taglie potranno essere giocate soltanto da chi ha già completato la quest però non so se siete voi a portarvi un altro tizio che non è ancora giocata cosa potrebbe succedere infatti difficilmente troverete qualcuno in Master Rank troppo basso a fare uno di queste quest o tutte le altre questo perchè la mappa esterna è cambiata diciamo così definitivamente quindi insomma questo sta qui un po' a voi bene ragazzi vediamo subito le prime cioè le nuove tre armi uscite con di Argon la prima che io ti sono portata è la Bedrin l'arma di Nira di Serpentone per inciso queste armi hanno una peculiarità molto interessante perchè hanno la possibilità di poter fare diciamo così una combo che ha fra effetti in caso di quest'arma quando sparerete cioè quando sarete in parata lancerà questo raggio di fuoco che applicherà gli effetti sull'arma io ci ho messo soltanto quello che vedete come vedete sono armi abbastanza forti visto che io quello che ho è soltanto come mod giusto ragazzi per farvi vedere un paio di danni elementari e nulla in più per il resto ragazzi non è che siano chissà che da giustificare il fatto di uccidere con una abbastanza rapidità un livello 100 il prossimo arm ragazzi è il tridente di Kurum l'arma che aveva Largon Borem il gufo e anche quest'ultimo ragazzi ha una abilità molto particolare infatti ragazzi una volta che siete in difesa potrete caricare la vostra attacca per questo come vedete anche qui applicherà gli effetti presenti sull'arma come avete modato il danno è comunque considerevole entra anche l'attacco questa qui pecca un po' però non cambia il fatto che male fa e ora passiamo all'ultima arma l'ultima arma azzi sono le neppiri sono come te azzi due bis pugnali che erano appartenuti all'argon harman ovvero il lupo andiamo subito ragazzi in azione sono le mie armi preferite di queste qui e sono anche qua molto particolari a differenza di tutte le altre dove difenderete per poter fare il suo effetto una volta che farete la combo sputerà addosso insomma tutto il vostro danno quindi attaccate come vedete ragazzi non scherzo non affatto tutto questo ragazzi sono dei semplici pugnali che hanno degli effetti sono armi ragazzi veramente molto interessanti queste sono le uniche che ho intenzione di formare per quanto prendo finire di formare proprio che ho da fare c'è di roba questi hanno anche un buon raggio così debole come attacco di abilità non so perché ho premuto esci ma va bene insomma il danno che fanno è abbastanza specialmente perché applicate effetti quindi tanta bella roba no tutto ciò ragazzi io vi saluto ci vediamo al prossimo video di guaflame ciao